benvenuti al gioco del rimbalzo dei palloni di tigro e ro il nostro amico uffa si è offerto di portare dei palloncini a una festa nel bosco dei cento acri ma per caso ha lasciato aperta la porta d'ingresso e tutti i palloncini sono volati via fortunatamente tigro e ro possono rimbalzare abbastanza in alto da riprenderli puoi aiutare tigro e ro a prendere i palloncini di uffa stabilendo quanto in alto debbano rimbalzare evidenzia uno dei tasti delle molle e premi ok enter più molle usi più in alto balzeranno ma attenzione se rimbalzano troppo in alto troppo in basso mancheranno i palloncini se vuoi riascoltare le istruzioni evidenzia il tasto ripeti e premi ok enter se vuoi giocare premi ok enter cominciamo guarda un palloncino aiuta tigro a stabilire l'altezza del rimbalzo evidenziando il tasto a molla e premendo ok enter un solo palloncino vola molto basso e una sola molla è bastata a tigro per prenderlo ora tocca a ro vediamo se puoi aiutarlo a rimbalzare per prendere i palloncini evidenziando uno dei tasti a molla e premendo ok enter così esatto due palloncini volano un po più in alto e ro doveva rimbalzare un pochino di più per prenderli oh guarda lassù ci sono degli altri palloncini perché non vedi se riesce ad aiutare tigro a riportarli giù evidenziando uno dei tasti a molla e premendo ok enter così magnifico sapevi che tigro aveva bisogno di un gran bel rimbalzo per arrivare tanto in alto oh c'è un altro palloncino aiutarò a riportarlo giù evidenziando uno dei tasti a molla e premendo ok enter così perfetto era proprio il tipo di rimbalzo giusto però per riprendere il palloncino di uffa ci sono altri palloncini di uffa vuoi aiutare tigro a riprenderli evidenziando uno dei tasti a molla e premendo ok enter ce l'hai fatta di nuovo ti intendi di rimbalzi quasi quanto tigro continua così aiutando ro a riportare giù questi palloncini evidenzia uno dei tasti a molla e premi ok enter rimbalzi proprio alla grande ecco un altro palloncino aiuta tigro a riprenderlo evidenziando uno dei tasti a molla e premendo ok enter di sicuro rimbalzi proprio alla grande sembra che ro abbia visto degli altri palloncini va e aiutalo a rimbalzare da loro evidenziando un tasto a molla e premendo ok enter così superbo hai aiutato ro a rimbalzare abbastanza in alto da riprendere i palloncini di uffa ma ce ne sono ancora altri in giro aiuta tigro a raggiungere i palloncini evidenziando un tasto a molla e premendo ok enter così ce l'hai fatta di nuovo tutti gli abitanti del bosco dei cento acri sono fortunati ad avere amici come te ora vuoi aiutare ro a prendere un altro dei palloncini di uffa evidenziando un tasto a molla e premendo ok enter così stai davvero facendo un magnifico lavoro non ci sono più tanti palloncini da riprendere continua così aiutando tigro a prendere questi palloni per farlo evidenzia uno dei tasti a molla e premendo ok enter così splendido hai sul serio aiutato tigro ora questi sono gli ultimi palloncini che servono ad uffa per la festa aiutarò a rimbalzare verso i palloncini evidenziando un tasto a molla e premendo ok enter bene ce l'hai fatta hai aiutato tigro e ro a riportare tutti i palloni persi da uffa ora grazie a te la festa sarà un grande successo